Salutano i fratelli e le sorelle di Eritrea Democratica arrivati qua da tutta Europa, dalla Norvegia, dall'Inghilterra, dall'Irlanda, dalla Germania per dire che non è possibile questa buffonata perché di questo si tratta dentro il regime eritreo, la festa che è remessa nel regime eritreo e questa festa ha delle precise responsabilità in questa città ci sono delle precise responsabilità di chi ha permesso e concesso il Parco Nord Comune di Bologna, scemo ognù, vergogna, vergognatevi vi siete nascosti dietro una convenzione soldi, soldi che cancellano le responsabilità della dittatura eritrea per sfuggire alla quale migliaia di persone ogni anno fuggono dall'Eritrea Comune di Bologna, vergogna, scemo ognù noi come sempre diciamo vi deve essere un diritto sacrosanto per tutti di fuggire dalla guerra, dalla miseria, dalla povertà per questo c'è il bisogno assoluto dell'instaurazione di corridoi umanitari perché non è più possibile assistere alle tragedie come quella del 3 ottobre non è più possibile assistere alle morti del Mediterraneo però allo stesso tempo diciamo che vi deve essere in modo altrettanto netto un diritto a restare, un diritto a restare nella propria terra avanti